È arrivato in Cassazione il caso di Martina Rossi, la studentessa ligure di 20 anni, morta all'alba del 3 agosto 2011, precipitando dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca, dove era in vacanza. Lo scorso 28 luglio erano state infatti depositate le motivazioni con cui a giugno la Corte d'Appello di Firenze aveva assolto dall'accusa di aver provocato la morte per un tentativo di stupro i due imputati, due giovani di Castiglion Fibocchi, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Domenico Seccia, adesso ha depositato una requisitoria per ottenere l'annullamento della sentenza dei giudici fiorentini, chiedendo di tornare ad esaminare elementi trascurati. La Cassazione si pronuncerà il prossimo 21 gennaio. I due imputati in primo grado erano stati condannati dal Tribunale di Arezzo a sei anni per tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato. In sostanza, il Tribunale stabilì che la giovane volò giù dal balcone mentre cercava di sfuggire ad un tentativo di stupro, perdetto per ribaltato il 10 giugno scorso in Appello, dopo che il reato di morte in conseguenza di altro reato era stato dichiarato prescritto. La sentenza di Appello era stata poi impugnata ad ottobre dalla Procura generale di Firenze per indizi non valutati per motivazione contraddittoria e per una valutazione frazionata e priva di logica degli indizi, visione che sarebbe stata adesso sposata in pieno dal procuratore generale presso la Suprema Corte. Alla vigilia dell'udienza in Cassazione era stata infine lanciata una petizione online per chiedere di avere tutta la verità sul caso, 80.000 le firme raccolte e già inviate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un'iniziativa nata per sostenere la battaglia portata avanti ormai dai 10 anni dai genitori della giovane Bruno Rossi e Franca Murialdo che continuano a chiedere a gran voce giustizia per la figlia.